Da noi arrivano direttamente dagli sbarchi o Lampedusa o Lab di riferimento in base ai posti che vengono assegnati alla regione toscana e di conseguenza alla provincia d'Arezzo. Quello che visitiamo a Pieve al Toppo, comune di Civitella in Valdichiana, è un CAS, centro di accoglienza straordinaria per migranti in procinto, di essere riconosciuti richiedenti asilo. Ho attraversato prima il Mali e poi sono venuto all'Algeria e dopo la Tunisia e da lì sono arrivato a Lampedusa. Durante il viaggio in mare, siamo più di 40 persone in barca, 40 persone. Abbiamo fatto due giorni, avevo paura perché il viaggio con la barca non è facile, perché non è facile. Era molto difficile. Paura di morire? Ah sì. Hanno avuto paura di morire ma adesso guardano avanti e al di là del motivo per cui l'Ascio è nei loro paesi, l'obiettivo è sempre lo stesso. Un futuro migliore, poter portare un giorno in Italia i loro familiari e intanto si impara l'italiano, si lavora e si gioca a calcio con un modello di accoglienza diffusa che qui è tangibile. Sì, la nostra è un'accoglienza diffusa anche proprio come politica di lavoro. I grandi centri ci appartengono un po' meno, siamo una operativa sociale, quindi se è sempre deciso di fare accoglienza diffusa, calcola che il centro più grosso che abbiamo è un centro dove ci sono 19 persone ma sono comunque divisi in quattro appartamenti. Quindi questo dove siamo oggi ha sei posti, è differente, è un po' più casa. Adesso in Italia sto lavorando, sto lavorando al Monte San Zavino, io faccio prefabricati, sì, ora ho lavorato due o tre mesi, sì, perché stare qua, fare niente non va bene, sì, quindi preferisco lavorare. Temporiore ho sempre studiato italiano, sì, online perché Beta 2 loro organizzano classi online, sì, siamo studiati sempre online, sì. 8 gennaio, 8 gennaio inizio la scuola CPI, sì, per lingua di lingua straniero. Ho imparato la lingua, possiamo dire, un po' da soli anche con l'aiuto dell'associazione Beta 2, e abbiamo preso le lezioni a casa anche con amici fuori per imparare la lingua così, perché è importante imparare la lingua. E poi lo sport. Eh sì, sono anche un calciatore, gioco con una squadra, Olmo Ponte Santa Femmina. Sono felice perché loro sono tutti buoni, parliamo, mi sento bene anche con la squadra, è meglio.